Buonasera ragazzi, mi avete scritto in tanti, volete sapere come funziona la mia leg blaster? Sto seduto sul mio sgabbello professionale, adesso lo faccio vedere. Che bello eh? Dello sgabbellino, fatto con due manubri. E' quando si muove questo? Allora a parte gli scherzi adesso vi mostro com'è fatta e come funziona e la testiamo. Questo è il leg blaster, l'ho costruito personalmente io, questi sono i pesi, i verdi sono da 50 kg, i blu sono da 15 kg e il giallo è da 10 kg. Le catene dovrebbero pesare entrambi sui 25 kg. Fatevi il conto voi e vedete questo attrezzo quanto regge, va bene? Questo è l'aggancio, ok? Stasera voglio provare la mia leg blaster. Per i carognoni eh, non è che sto dicendo quanto faccio, la sto solo provando. La voglio testare, voglio vedere il limite, vi ho aggiunto anche le catene. adesso vi dico quanto c'è sopra, quanto pesa il macchinario. SIGLA! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.